Musica Che dire, che cuore non c'era? Un cuore grande. Sott'anno con due postazioni, davanti Santa Monica, non c'era inferiore, e alla chiesa di San Matteo abbiamo esaurito tutti i kit di donazione. Cioè con poco abbiamo donato una cosa importante per questi bambini ammalati di leucemia. Io lo dico in maniera molto pratica, questa raccolta di questa edizione, la quarta, poi faremo l'anno prossimo, servirà a curare circa 2000 bambini all'anno che soffrono di leucemia linfoplastica, che all'80% è curabile. Quindi questi fondi sono destinati veramente alla vita di ognuno di questi bambini. Quindi chiunque ha fatto questa donazione, non solo ha un grande cuore, ma ha dentro un dono, ha dato un dono veramente a questi bambini. Io sono emozionato e vi dico con franchezza che non mi aspettavo la risposta così forte da parte di tutta la città. Cercheremo di organizzarci ancora di più nelle altre postazioni l'anno prossimo, perché abbiamo anche altre prenotazioni di confezioni che dobbiamo mandare a casa, perché molte persone con le confezioni che non ci sono più continuano a chiedere di donare. Grazie, grazie di cuore a nome della Fondazione Veronesi, ma soprattutto a nome di questi bambini ammalati che grazie a voi si potranno curare. Sì, io ho chiesto alla Fondazione di allungare qualche giorno mentre fanno una prenotazione. Possono prenotare con un numero telefonico, posso lasciarlo se volete, 350 17 34 130. Grazie agli amici della protezione civile Club Universo saremo in condizione di poter consegnare anche presso la vostra casa quando verrà prenotato. Grazie a tutti.